È una notizia che conferma quanto il reddito di cittadinanza sia solo un incentivo ai furbetti e agli evasori, uno schiaffo ai cittadini onesti che si rimboccano le maniche ogni giorno e una misura ai danni dell'erario. Ed è questo il commento dell'assessore al lavoro regionale, la biellese Elena Chiorino, alla notizia dei 53 furbetti del reddito di cittadinanza scoperte dai carabinieri della compagnia di Domodossola, tutti i residenti in quella parte del Piemonte accusati di avere fornito false dichiarazioni per poter ottenere il sussidio. Si tratta di 45 italiani e di 8 cittadini di origine straniere. I 53 hanno percepito indebitamente oltre 420 mila euro di benefici. A novembre scorso, aggiunge Elena Chiorino, siamo stati la prima regione in Italia a promuovere misure più stringenti contro i furbetti del reddito, offrendo corsi di formazione gratuiti. Chi non si iscriverà o deciderà di non frequentarli, sarà segnalato all'Inps, che provvederà a revocarne il sussidio. Ancora aggiunge Chiorino, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati sul territorio nella verifica sulla legittimità della percezione del reddito, dai reparti locali del comando dei carabinieri all'Ispettorato del lavoro. Il governo ha scelto di perseverare nell'errore, continuando a sostenere il reddito di cittadinanza, rifinanziandolo in manovra. Mi domando, quante imprese e attività oggi in difficoltà avremmo potuto aiutare con quelle risorse?